La data d'inizio della stagione agonistica, almeno per quel che riguarda la Serie D, appare quanto mai incerta vista la ventilata possibilità di rinvio del turno preliminare di Coppa, previsto per il 26 agosto, e della prima giornata, prevista per il 2 settembre. Non per questo però la preparazione rallenta. La penultima domenica di agosto è stata infatti caratterizzata da tante amichevoli con protagoniste squadre di Serie D ed eccellenza pugliesi. A Cirignola è andato in scena l'incrocio tra i gialloblu di Dino Bitetto e l'ambizioso corato di Vito Castelletti, regina del mercato d'eccellenza. Ad avere la meglio sono stati gli Ofantini, vincitori con il punteggio di 3-1 grazie alla doppietta di Longo nel primo tempo e dal rigore di Loyodice a 15 minuti dal termine. Per i neroverdi, nel finale, il gol della bandiera è scaturito da una torite. I 90 minuti del Monterisi hanno offerto buone indicazioni ad entrambi i tecnici, con quello gialloblu Bitetto pronto ad abbracciare l'ennesimo acquisto, ovvero il fantasista Mario Marotta proveniente dal Siracusa. Protagoniste di un incrocio tra Serie D ed eccellenza pugliese sono state anche OSD Bitonto e Terlizzi, con i neroverdi di Massimo Pizzulli che si sono imposti per 5-1 sui rosso-blu di Anaclerio. All'iniziale vantaggio terlizziese il Bitonto ha risposto con le doppiette di Patierno e Schiena e la rete di Biason. A Gravina sfida tutta murgiana tra i giallobludi di Mio e le hanno promosse in eccellenza Fortis Altamura. A spuntarla sono stati i padroni di casa che dopo essere passati svantaggio hanno ribaltato il punteggio con i gol di Potenza e Schadi per il 2-1 finale. Protagonista Noi Cattaro invece l'altra compagine murgiana di Serie D, il team Altamura vincente per 6-1 sui Noiani grazie alle doppiette di Ferrante e Tozzi e dei gol di Asselti e Fornaro. La ricca domenica di Amichevoli ha visto anche il 9-0 del Fasano sullo Stuni, lo show della Virtus Francavilla vittoriusa per 0-4 sul campo del Taranto e il buon primo test della Vigortrani che si è imposta per 2-1 su una selezione di extracomunitari grazie ai centri di Musa e Terrone.